Mattinata di festa per le premiazioni del concorso indetto da SM Energia a Vigevano e Lomellina dal titolo Save Energy. I ragazzi delle scuole elementari e medie erano stati liberi di produrre elaborati di qualsiasi tipo sul tema della sostenibilità energetica e dell'utilizzo razionale dell'energia. Oggi premiamo queste classi per i lavori che hanno fatto e speriamo che questo sia il primo anno di un concorso che possa nel tempo portare anche sul territorio delle risorse che riteniamo utili nel mondo della scuola. E sì, perché ai primi cinque classificati sono andati premi in denaro fra i 500 e i 1000 euro utilissimi per l'acquisto di materiale scolastico. A quinto posto i piccoli e delle elementari ricci divigevano fra i più entusiasti. In quarto posto è andato a Mortara, la seconda F delle scuole medie. Il tema del nostro progetto è lo sviluppo sostenibile e la prof c'ha divisi in gruppi e ogni gruppo ha affrontato questo tema da diversi punti di vista. Sul podio, al terzo posto, la scuola media di Gambolò. Abbiamo costruito dei progetti con materiali riciclati. Ci abbiamo fatto una marcia per il cambiamento del clima. Secondo posto per il rap, composto dalla quarta B dell'elementare Ramella di Vigevano. Vittoria per le classi terze della media di Tromello che hanno realizzato un video per raccontare la storia dell'utilizzo dell'energia elettrica nel loro paese, dalla prima illuminazione pubblica a oggi. Siamo rimasti esterrefatti perché anche i ragazzi, soprattutto quelli delle elementari, hanno formulato delle idee, delle proposte e hanno ricepito pienamente il nostro messaggio, che era quello di sensibilizzare i ragazzi sin da subito per la sostenibilità e il consumo inerente all'energia elettrica e all'energia in genere. Grazie a tutti.